I did all alright I had no need to fight Tonight tonight Buongiorno ragazzi, chiamo su Gabbè, ritrovati nel mio canale Sono tornato, signori, finalmente su FIFA 17 Visto che è l'unico gioco che è monetizzabile su YouTube Cercherò di non dire parolacce E di cercare almeno di fare una quantità di soldi Da permettermi, almeno con un video Di pagarmi le resistenze da portarmi a Los Angeles Per svappare No, sto scherzando ragazzi Però comunque sia, non so se lo spavate Ma FIFA è uno dei pochi giochi monetizzati su YouTube Quindi ho deciso di spendere 100 euro Quindi più o meno farne altrettanti inari impari Per fare un pack opening ragazzi Spero che vi piaccia, spero di trovare Visto che ho visto che tantissima gente ha trovato del mondo Ovviamente GabiSquered Visto che è tanto tempo che non è su FIFA FIFA dovrà ringraziarli in qualche modo Quindi sicuramente in questo video ci saranno dei bellissimi giocatori ragazzi Quindi lasciate un mi piace, un commento Fatemi vedere se in questa settimana Vorreste vedere ancora una volta Una prova di 192 draft Mi allenerò e cercherò di esaudire le vostre richieste I vostri desideri Siamo già a due pacchetti aperti Per ora non abbiamo trovato ancora un cazzo ragazzi Ma è pressoché normalissimo Quindi dovrò sperare di riuscire a trovare qualcosina Ho detto vabbè dai diamo una possibilità a FIFA Magari hai cambiato qualcosa in questo mese Che non l'ho portato Invece assolutamente no Sembra È vero? Certo Quarto pacchetto signore Ce ne rimangono 12 Attenzione 12 In questi mega pacchetti Da 600 FIFA Points l'uno 500 6500 FIFA Points l'uno Abbiamo trovato Vasquez Cruz E Corona soprattutto Cioè comunque sono giocatori importanti ragazzi Quelli che ti dicono Cazzo devo rafforzare la mia rosa E quindi meno male che ci sono stati questi giocatori Io spero di trovare un walkout Ma spero che non sia gli Oris Visto che quest'anno se ne andate a vedere un attimo Gli unici walkout che ho trovato sono tre Sono gli Oris E gli Oris E gli Oris E quasi quasi ci scappa anche una partita Con la mia squadra su Xbox ragazzi Che non è niente male Dopo ve la faccio vedere Che è anche un bel po' che non mi portano Una bella partita su FIFA raga Se non trovo un cazzo in questo pack opening In questo pack opening qua Verrà cancellato Ci sarà la partita di FIFA Allora 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 Wow Tozzina pack Wow Legend If Completa il torneo giornaliero per vincere Sirguson Cazzo è da fare subito raga Fega Questa è la mia rosellina ragazzi Non mi sembra male Oh io Mi sembra abbastanza carina come squadra Eh grazie Cristo dio Sono concentrato già Latenza 1 What Ragazzi Vedete la concentrazione nei miei highs Ma dio best Ragazzi Ragazzi Però dovrei prenderlo Come centrocampista centrale Vabbè Questi ragazzi di batto Chiusi Tranquillamente Oh Già mi dà la palla Cosa fa il furbo Pensi di uno che Che sia scarso Come pensi tu Guarda che io so fortissimo a fifa E' sulla play che faccio cagare quest'anno Guarda già il primo tiro Già ti stai cagando addosso Ops Ops non prendi la palla zio A chi A chi A chi Vai Vai Keriksen Che vengi un begu dal bus Tiro Madonna che scimia Ragazzi Mamma mia Eccolo Manè Manè ragazzi Manè Manè Che vengi un begu Ecco il contropiede La volta andè Pistola Bello Manè Manè Tira Ma dai Che vengi un canker Bastardo Te guarda Glavor Do cazzo vai Cinesi Qua c'è Davide Luiz C'è Davide Luigi Oh mio dio Cosa stava facendo Manè Ragazzi Ma se facevo sto gol Dopo anni Di non giocare a FIFA Seriamente Mi sto impegnando Una cifra Dall'ultimo Food Champions Lo ricordo Come se fosse Tre mesi fa Madonna Prende tutto Sto portiere Mannaccia Maros Che schemino Bello Barca Puttana Schifosa Sirgusson No Eriksen Porco Due Stavo pensando A colui Che posso vincere Dai Fine Primo tempo Ragazzi E' partita Molto equilibrata Devo dire Ma tanto Sappiamo tutti Come andrà a finire No No Cazzo Mai faceva Autogol Mi è piaciuta Sto giocata Bravo Gabi Squared Ragazzi Non entra Staboccia Non entra Non entra Non entra Incredibile Che bel gol Grande Florence Starridge Grande Fiorenzo Non è che si chiama Starridge No 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 Eh E che Cristo Il primo tiro che fa Ragazzi 75esimo Mi fa mica brutti scherzi Eh Vai 3 contro 2 Madonna Starridge Ho premuto Ho premuto appena appena Triangolo Guarda dove cazzo L'ha messa Per far far gore a lui Bruta merda Di un gioco del cazzo Dai Ma perché Ma perché Cioè perché Che c'era quello la in mezzo libero da solo Che ho appena 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 premuto Ma perché fai cross automatici Che cazzo para lui Fortunato ho trovato una barra contro Più barra di me ragazzi ce ne vuole Eeeh Eeeh Vabbè Guarda che 93esimo guarda Guarda eh Guarda eh Guarda 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 Meno male Ho mantenuto la calma Oh la vado subito a vincere così Ragazzi Ma cosa succede? Ma cosa succede? Signori siamo presi cante Normale ovviamente Però mi sembra che sia abbastanza buono Come giocatore C'ha dei dai piedi Andiamo a fare la seconda partita Incrociando le dita Sperando di riuscire a arrivare Almeno Almeno Dico almeno A vincere bagaglio La show cross Vorrebbe essere Anche lui c'è una bella berkley's Che poi non è berkley's Ma è premier Berkley's è lo sponsor C'è una bella premier Bene Pichiamo i pizze Grande Qua non si passa ragazzi Guardate che difesa Allora che io adesso diventerai un attimo in difensiva Così studiamo bene all'avversario Cerchiamo di giocare bene Guarda come passa bene la boccia Ridagliela Il tiro Il palo Non ci credo Non ci posso credere Palo al quarto minuto Mamma mia che bella giocata che ho fatto qui Che esce No Non è uscita Che inculata Dai prendi la starridge Madonna bravo Dai Porco Bello Dai che si riparte ragazzi Guardate che bel gioco Eccolo Il ribalzino fedele Dai non è fuori gioco Non è fuori gioco Non è fuori gioco Cato Vengi un begging dal bus Dovevo angolare Madonna santa ragazzi Che assedio Che cazzo da assedio Vai che libero starridge Vai cantè A chi A chi A clattralito medra A chi Poi era manè Non era cantè Ma vabbè Bello il buco Bello Tira Sì Lorenzo Starridge 1 a 0 Il ribalzino Fortunatino Mamma mia ragazzi Unstoppable Gabby squirting Io non capisco perché I passaggi filtranti Li fa così forti Mamma mia Che bella azione Starridge col fisico Si gira così Ancora lui Starridge Proteggia la palla Non bene Mamma mia Starridge Eccolo Starridge Il triangolo no Madonna santa Quareggiaco Fine primo tempo ragazzi Dove vede Gabby squared Come andare Questo se ne prenda comoda Si fa un caffettino Un po' più equilibrata Rispetto a quella Della volta scorsa Eh La partita scorsa Però va bene così ragazzi Non abbiamo ancora vinto Dobbiamo andare subito A vincerla immediatamente Oh 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 Meno male Cazzo importa Adrian Chi è? Non mi ricordo Dai 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 Bella No dove va? Dove va? Perché Starridge ha fatto quella mossa? Vai Martial Ma che l'hai visto? Mamma mia Che bella boccia Subito Vai Vai Cotegno Vai Filippo Perché? Va bene Va bene Va bene Bella mossa Però perché Quella l'ha fatto andare? Ragazzi Te le ecco Cosa sta succedendo ragazzi Sono allergi C'è la palla? Madonna Un tiro involontario Mai visto Madonna di Fosse fa Raga Ma va fortissimo Sto qui Raga mi fa gol Oh 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 mio dio Holy shit Meno male che non ha tirato Raga Via sta boccia Via sta boccia Cristo Combi La prima azione figa che fa Porca puttana Dai lo sapevo Lo sapevo Che se non era la prima Era la seconda Mi faceva venire Cold Fa caldo Madonna No vabbè dai Regà Non ci credo Ma non ci credo Ma che cazzo è? L'azione dopo Si vabbè dai Abbiamo già capito ragazzi Tre gol in cinque minuti Dai Su Fati darmi il culo Te Schifoso Mamma mia Quanto lo schifo FIFA Quanto mi fa cagare Quanto mi fa schifo Mi fa schifo Una merda mai vista All'improvviso I miei sono paraplegici All'improvviso Guarda come lo sbaglia Ma è strano Fallo Fallo un po' più dopo il gol Cristo santo Adesso questo Prende pala La tira in portiere Dai Stanto è sempre così Dai guarda 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 Vabbè Complimenti Sono fatto apposta Veramente Sono veramente Fatta apposta Sì Sconfitta Tua madre Guardate In dieci minuti Mi ha fatto tre gol In dieci minuti Vabbè signori Questo video finisce qua Ovviamente Non ci siamo aggiudicati La vittoria Del nostro bel calciatorino Ti cazzi Sinceramente Cioè nel senso Non è che non mi diverto A FIFA Mi fa incazzare Ragazzi Mi fa veramente Girare i coglioni Cosa che non sopporto Sta qua Di prendere Dominare tutta la partita Poi boom All'improvviso Chissà che cazzo Succede Dieci gol In tre minuti Vabbè Ciao Vi ringrazio Vi ringrazio Vado a registrare Il draft 192 Incredibile Oh my god Qui da Gabby Dsquared È tutto Bella raga Chissà che cazzo